Ciao a tutti, oggi prepareremo i ghiaccioli alle fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono fragole, zucchero e acqua. Andiamo via la ricetta. Mettere nel toccare le fragole e frullare 50 secondi, velocità 8. Adesso prendiamo le tagole e le mettiamo da parte. Mettiamo nel boccale l'acqua e lo zucchero e lo facciamo sciogliere per 3 minuti, 50 gradi, velocità 1. Bene, adesso uniamo le fragole che abbiamo precedentemente tritato e lo andiamo a mescolare per 20 secondi a velocità 5. Il succo di fragole è pronto. Andiamo a metterlo negli stampini per i ghiaccioli. a trasferire il succo negli stampini, andiamo a riporlo in freezer per 6 ore. Ghiaccioli alla fragole. Grazie e alla prossima ricetta! Ghiaccioli alla fragole. Grazie a tutti! Ghiaccioli alla fragole. Grazie a tutti!